Adesso vi propone, siamo qui allo 14 di Torero, in via Corino 50, stiamo qui con i carizzi miei amici, allora, sì, grazie, grazie per il video di essere qui, allora, potete trovare tutti i gatti, la parte della pubblica, la strada, 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 ecco, questa cosa, grande musica, grande座 halletto, volevo ricordare le strac nudità del Pozzo? Si, grazie, l'ho fatto divenneto, poi abbiamo la pizza, abbiamo la Chick-Aid, la strada, la strada, lì ci presenti, cioè questo è un lato in paio di questo, perché l'ho messo in avanti e in argomento, di Caveno, il piatto meno 50 un abbraccio grazie amici di Forniti